Benvenuti alla nostra rubrica leggere liberi. Mi trovavo in Francia, esattamente a Charleville Mezière, profondo nord, due passi dal Belgio, la città natale di Arthur Rimbaud. Il mio amico Jérémy Torres mi dice, Gabriele, je voudrais partager avec toi une lecture que j'ai beaucoup aimée. Vorrei farti condividere una lettura che ho amato molto. E mi regala un libro. Ora, sarà che a me piacciono molto le storie ambientate nell'estremo nord, nei climi gelidi del nord, ma sta di fatto che Scarpe Italiane di Henning Mankell, dopo averlo letto in francese, ho voluto comprarlo in italiano per farlo leggere anche a mia moglie e ai miei figli. Sempre, quando fa freddo, mi sento più solo. Il freddo fuori dalla finestra mi ricorda il freddo del mio stesso corpo. Sono attaccato da due direzioni, ma resisto contro il gelo e contro la solitudine. È per questo che ogni mattina faccio un buco nel ghiaccio. Se là fuori nella baia gelata ci fosse qualcuno a osservarmi con un binocolo, potrebbe credere che sono pazzo e che sto preparando la mia morte. Un uomo nudo, nel freddo gelido, con un'accetta in mano, che sta facendo un buco nel ghiaccio. In verità, forse, spero che un giorno ci sia qualcuno lì fuori, un'ombra nera contro tutto quel bianco, che mi vede e si chiede se avrà il tempo di intervenire prima che sia troppo tardi. Ma non è necessario salvarmi, dato che non ho intenzione di suicidarmi. Frederick, il narratore, è un medico, un medico che si è ritirato anzitempo dalla professione e si è ritirato lì a vivere in perfetta solitudine in quell'isolotto. Ha un segreto inconfessabile nel suo passato e quindi vive lì con un cano e un gatto. Ma un giorno uno spettro riemerge da un passato che credeva sepolto, uno spettro che lo prende per mano e attraverso un viaggio quasi direi iniziatico lo riporta a ripercorrere il suo passato in un percorso davvero di riformazione. Ora è la vita che vince, è la vita che reclama i suoi diritti contro ogni forma di dolore, contro ogni forma di senso di colpa che ci può attanagliare. Il senso di colpa purtroppo si struttura presto nella vita dell'uomo, già da bambini e nell'adolescenza si radica. Quindi se tra i nostri obiettivi abbiamo per esempio quello di insegnare ai nostri ragazzi a volersi bene, potremmo attraverso una lettura guidata di questo libro rendere loro un servizio. Ora perché scarpe italiane? Non chiedetemelo, vi dico soltanto che quando le scarpe calzano bene non si pensa più ai piedi. Bene grazie per la vostra attenzione, mi raccomando non mancate di venirci a visitare sul nostro sito web e sui nostri canali social. Grazie.